Turisti e pendolari erano le loro vittime preferite. Una volta saliti a bordo degli autobus della linea urbana, approfittavano della folla delle ore di punta per derubarli dei portafogli contenuti negli zaini. Una tecnica collaudata, quella messa in atto da tre baresi arrestati dai carabinieri per un furto ed un tentato furto su due mezzi dell'Amtab. In manette sono finiti un 59enne del quartiere Madonnella, già in carcere per reati analoghi, ed un cinquantenne ed un cinquantasettenne del rione San Paolo. Ad incastrarli sono state le telecamere installate sui bus, grazie alle quali è stato possibile immortalare i borseggiatori in azione. I due episodi contestati risalgono allo scorso mese di marzo. Nel primo caso, due dei tre arrestati, con l'aiuto di un terzo complice non ancora identificato, misero gli occhi sullo zaino portato in spalla da una turista greca, pedinata sin dalla fermata di Piazza Moro. A bordo, i tre circondarono con discrezione la vittima e al momento opportuno le aprirono una borsa, sottraendole il portafogli. Né la ragazza né le persone sull'autobus si accorsero di nulla. È andata peggio in una seconda occasione, quando in quattro cercarono di derubare con lo stesso modus operandi un'altra giovane donna, allertata in tempo da un passeggero, che si era accorto di tutto. Scattate le indagini, i tre sono stati identificati nel giro di qualche mese mentre vanno avanti le ricerche di altri due complici. Gli arrestati sono adesso ai domiciliari, dovranno rispondere di furto e tentato furto con destrezza.